Le infrastrutture smart saranno anche resilienti. Saranno concepite per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici estremi, ma anche ai rischi indotti dall'uomo, con l'obiettivo di avere infrastrutture che si riparano da sole, in modo da offrirci un servizio di mobilità perpetuo, così da scongiurare la possibilità di perdere l'abbraccio dei nostri cari.